Ok amici, tutti i pezzi sono al loro posto. È il momento del grande colpo. Innanzitutto, Marry mi aiuterà a entrare nel vecchio serbatoio dell'acqua per disattivare la fontana della piazza. Dimitri manderà sicuramente a chiamare il tecnico. Non appena si farà vedere, tu Sly gli ruberai di tasca le chiavi del camioncino e le passerai a me e a Marry in piazza. Noi ruberemo il camioncino mentre tu salirai sull'insegna forma di pavone del night. Marry ti lancerà il cavo dell'argano del camioncino che useremo per farla cadere. Se i miei calcoli sono giusti, l'impatto dovrebbe aprirci un'entrata per la stanza della stampatrice. A questo punto Sly salterà dentro, prenderà le penne timoniere di Clockwerk e scapperemo.